Niente in San Begno? No. No, e tante volte che se tu lo trovi qui in mezzo, qui non è neanche pericolo e dici, boh, faccio il giro di là. Ma se trovi il sentiero obbligato, che devi passare di là, loro si torna in mezzo, e non si scossa, è meglio da far perdere. Qua il sentiero, sì. Sì, io sinceramente sono pieno di emozioni, come in Narnia, sai? In quel film, per bambini. Stambeck hanno visto i miei corni e hanno capito che... Devo chiedere da mia moglie perché sono spaventati Stambeck di me. Lo Stambeck di solito, se lui non ci fa niente, vanno per questa strada. Sì, se tu sei buono... Anzi, andavo lì per acaracciarli. Lì, andiamo a toccare. Purtroppo se quello, il maschio, la devi stare un po' attento, perché quello magari... Io non vedo senso andare più alto, sinceramente. Eh? Non vedo senso andare oltre su. Allora... Allora... Allora...